In questa settimana per le nostre consuete lezioni di educazione finanziaria con il professor Beppe Ghisolfi siamo arrivati alla lettera D del nostro manuale. Io avevo intenzione di chiederle che cos'è il debito pubblico che come tutti sappiamo è un problema gravissimo che pesa sulla nostra economia e sulla nostra società. Un macigno legato al collo della nostra economia. Però anche se alfabeticamente viene dopo forse è il caso che prima le chiediamo che cosa è il deficit perché così poi dopo possiamo capire un po' meglio perché i due termini spesso vengono confusi invece sono due concetti diversi. Lo Stato spende parecchi soldi ogni anno per funzionare. In cosa spende lo Stato? Nelle pensioni, nella sanità, negli stipendi ai dipendenti pubblici e via via di questo termine. Infrastrutture, trasporti eccetera. Insomma di spese lo Stato ne ha moltissime. Lo Stato incassa tramite le tasse dei cittadini, le dichiarazioni dei redditi, l'IRPEF e poi su una miriade di tasse imposte. Facciamo l'esempio più chiaro, quella della benzina dove i due terzi del prezzo della benzina vanno allo Stato come imposta. Però il nostro Stato, Italia, spende di più di quello che è in cassa. Quindi spendendo di più ogni anno si forma un deficit. Concetto molto semplice. Spende 100 in cassa 90, il deficit è 10. Se noi sommiamo tutti questi deficit che nel tempo si sono formati e per ora negli ultimi anni si è sempre trattato di deficit, perché nonostante le politiche di rigore, però comunque si è sempre speso di più di quanto si è incassato, tutti questi deficit insieme formano il macigno del debito pubblico che è di circa 3.200 miliardi, una cifra di questo genere che poi ogni minuto cambia, quindi è difficile anche definirla. Naturalmente il debito pubblico rappresenta un grave problema perché? Perché questo debito ovviamente ci costa interesse perché coloro che comprano i titoli del debito pubblico e titolo dello Stato pretendono giustamente un interesse. L'interesse all'incirca è 80 miliardi l'anno, una cifra enorme con la quale si potrebbero fare tante cose che invece viene praticamente, tra virgolette, sprecata perché utilizzata per pagare gli interessi. Non solo per quello che riguarda gli interessi, io aggiungerei anche un altro concetto che un banchiere come lei avrà ben presente, cioè che l'interesse è tanto più alto quanto più chi te lo chiede è a rischio di non poter pagare. Se io ho un debito che è il 10% del mio stipendio, una banca come lei se vengo a chiederle, come la sua, se vengo a chiederle un prestito me lo fa volentieri e ha un tasso basso perché è sicuro. Se io invece ho un debito che è 100 volte il mio stipendio, per avere un finanziamento devo dare un interesse più alto perché il rischio è più alto, quindi più cresce il nostro debito pubblico. È un po' la differenza, quello che le stai dicendo, tra Italia e Germania. La Germania finanzia il debito pubblico con interesse bassissimo, quasi zero, in alcuni casi addirittura negativo, perché un titolo tedesco è considerato super sicuro e quindi ti sarà restituito certamente. Il titolo italiano molto meno sicuro, colui che lo acquista pretende un interesse maggiore. Bene, quindi adesso che il nostro spread si è abbassato molto. In questi giorni è sotto 100, quindi significa che il differenziale tra i nostri BTP a 10 anni e i bond tedeschi è calato moltissimo, il debito ci costa meno, tant'è che hanno calcolato che se si mantiene su questi livelli ci sarà un risparmio all'anno dai 5 ai 6 miliardi, che è un vero risparmiare. Eh beh sì, poi se questi soldi verranno utilizzati per innescare una qualche crescita, si avranno ulteriori effetti positivi sul debito, perché aumentando il PIL diminuirà il rapporto. Ecco, potremmo ancora dire se è d'accordo, perché la frase che si sente spesso e che ho constatato che pochi italiani percepiscono, dice l'Europa che il rapporto deficit-PIL deve essere inferiore al 3%. Allora, come sia nato questo 3% ci sono molte leggende, però si è fissato un parametro. Allora, questo deficit che noi ogni anno continuiamo a fare, sperando che arrivi l'anno, che faremo un avanzo, che è l'opposto del deficit, deve essere, queste sono le regole europee, inferiore al 3% del PIL. Il PIL, lo abbiamo già spiegato, lo spiegheremo in altre lezioni, nel prodotto interno lordo, cioè tutto quello che produce lo Stato in un anno. Questo è un parametro per evitare che questo deficit non abbia nessun tetto e quindi ovviamente i nostri governanti, continuano i nostri e anche altri, continuano a spendere. Si è fissato questo limite, cioè non puoi superare il 3% del PIL. Però, per prendere giustizia anche non ai nostri governanti, che è un po' difficile difenderli su questi temi. Però, diciamo, al nostro Paese va detto che anche altri Paesi hanno sforato, compresa la Germania, in più di un'occasione ha derogato da questa norma del 3%, che poi è una norma arbitraria, nel senso che è un numero scelto su una base arbitraria, che poteva essere il 4 o il 2. Sì, ma il nostro debito pubblico è molto minore rispetto a quello italiano, anche se si fa una considerazione, si rapporta al PIL. Quindi, è il debito pubblico italiano quello che preoccupa di più. Per cui, se non comincia a diminuire il deficit, come mai fai a ridurre il tuo debito? Certo, certo, questo è vero. Bene, io ringrazio il professore per questa lezione, anche oggi, su questi temi così importanti e così preoccupanti per la nostra economia. E do appuntamento ai nostri lettori, ai nostri telespettatori, alla settimana prossima. Grazie. Grazie a lei. Grazie a tutti. Grazie a tutti.